Tornare al figurativo come forma di protesta ad un futurismo ormai immobile e nel farlo plasmare l'arte da lì a 30 anni. Non ha potuto vederlo dal vivo Giacomo Balla, le sue sperimentazioni alla ricerca di una nuova forma di modernismo, farsi pop art e punto di partenza di Warhol e Lichtenstein, ma potrà farlo chi si recherà a Palazzo Merulana per la mostra Giacomo Balla dal futurismo astratto al futurismo iconico. Primavera mostra dello spazio espositivo recuperato all'esquilino. Questo ritorno al figurativo nasce come una nuova evoluzione del futurismo, una innovazione che dopo 20 anni che Balla praticava questo futurismo astratto sente che l'essenza stessa del futurismo che è il rinnovamento viene meno e quindi cerca nuove strade. Le trova in un immaginario collettivo che è l'immaginario del cinema, l'immaginario dei divi contemporanei che coinvolge le cose che simultaneamente tutto il mondo conosce, tutto il mondo vede, cioè appunto cinema, rotocalchi, divismo. È una mostra che presenta un intreccio di fotografie, di grandi fotografie dell'epoca come Bragaglia, Luxardo, Gergo e le immagini delle riviste del tempo e il confronto con i quadri di Balla che è un confronto strettissimo e quasi inestrecabile. A quasi un anno dall'apertura di Palazzo Merulana viene prodotta la prima mostra che proprio ha come nello spirito quello di far dialogare la bellissima collezione Cerasi con gli artisti e con insomma il panorama artistico che ci circonda in qualche modo. Quindi è una mostra che valorizza la collezione. C'è nella collezione Cerasi il primo Carnera di Balla che forse è la prima opera pop che è stata prodotta della storia dell'arte e questo insomma vuole essere una tessitura, un po' come le retinature che sono favolose, iniziative pensate e prodotte per tenere il più possibile questo spazio culturale aperto e soprattutto aperto al quartiere. Un'opera di ricerca incredibile, stiamo già pensando ad un'ulteriore mostra che verrà a settembre-ottobre. La mostra resterà in esposizione fino al 17 giugno, dandoci così il tempo per liberarci dalle maglie delle ipnotiche reti di Balla.